Sabato 4 febbraio, nelle piazze dei nostri comuni, c'è stata la distribuzione delle arance e della salute. Noi siamo stati a quella di San Donade Piave. Vediamo servizio. L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ente privato senza fini di lucro, è stata fondata nel 1965 grazie all'iniziativa di alcuni ricercatori dell'Istituto dei Tumori di Milano. Dall'anno della sua fondazione, AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, si è sempre impegnata a promuovere la ricerca oncologica nel nostro paese e si è progressivamente ampliata fino a contare quasi 1.800.000 soci, tante persone che con la loro generosità sostengono l'Associazione, consentendole di esistere e di andare avanti. Per questo, sabato 4 febbraio, i banchetti dell'AIRC sono stati presenti anche nelle varie piazze dei nostri comuni, al fine di raccogliere fondi attraverso le arance della salute. L'attività si è basata su una raccolta di denaro a favore del progresso della ricerca oncologica e di diffusione al pubblico di una corretta informazione in materia.